Quest'anno sotto l'albero di Natale di molti vittoriesi molti pacchetti di regali sono stati sostituiti dalla ricevuta del saldo dell'Imu, mentre a fare il resto ci hanno pensati i precari senza certezze, il clima di confusione politica che si respira in giro e gli altri tributi ancora più minacciosi in arrivo nel nuovo anno. Il bilancio di acquisti e consumi, capace in passato di risollevare le sorti di numerose attività commerciali, rispecchia inesorabilmente uno scenario ormai noto salvando solo le spese alimentari oppure i settori che pur soffrendo riescono a reggere la crisi come ad esempio la telefonia. Un Natale alla fine molto breve da questo punto di vista, cominciato a pochi giorni dalle festività e collegato in un certo senso alla tredicesima che per molte è stata assorbita dall'Imu, a tenere dunque stato il settore alimentare con l'unica consolazione, se così si può dire, che se non altro ha certificato certo la crisi ma non ha cancellato la tradizione di riunirsi in famiglia. In questo scenario naturalmente ha sofferto il commercio tanto da indurre i ricommercianti a calare le saracinesche in via Cavour, risultato i vittoriesi hanno preso d'assalto i negozi dei cinesi oppure sono andati nelle vicine Comis e Ragusa e intanto da mercoledì 2 gennaio sono al via i saldi invernali, un tempo occasione per risparmiare e oggi invece l'ultima spiaggia per un acquisto non più indifferibile.